Allora, iniziamo. Questo è il terzo seminario dei tre incontri sulla scrittura relativi al progetto di formazione permanente. Io saluto e ringrazio Adelino Cattani, che è stato nostro ospite, che sono i due relatori che dialogheranno. Poi ringrazio la nostra Roberta, che farà la moderata di intervento per la serata. Quindi, Roberta, do la parola a te e a tutti i presentatori e introduce la serata. Sì, buonasera a tutti. Dunque ringrazio il Centro Psicoanalitico di Pavia, l'esecutivo che mi ha dato l'occasione di moderare il seminario di questa sera, che come introdotto dal nostro segretario Antonino Gallo, è l'ultimo di una serie che ha coinvolto i centri del Natalmester. Il solco all'interno del quale avevamo pensato di muoverci era quello della narrazione. La proposta sottotraccia è stata quella della feconda contaminazione, come usiamo dire, spesso si dice, tra psicoanalisi e discipline affini. Ecco allora che il titolo di questo nostro ultimo incontro seminario è Mi piace, chi sceglie con cura le parole da non dire, come dirlo e come non dirlo. Il titolo tratto da una poesia di Ada Merini, molto suggestivo, sia per chi guardi da un vertice filosofico, se pensiamo al ruolo assunto dal discorso sul linguaggio nel secolo scorso e anche oggi, presente in Wittgenstein, e se pensiamo ovviamente alla psicoanalisi come token pure. Fa da relatore il professore Adelino Cattani, docente in Università di Padova di teoria dell'argomentazione, primo insegnamento attivato nel 2001 in Italia, e presidente dell'Associazione per una cultura alla promozione del dibattito. Ha ideato un protocollo di dibattito argomentato e regolamentato, Fatavina Libera, e una palestra di botta e risposta, di cui casomai poi con Michele possiamo fornire un link, per la formazione di discutanti e valutatori giudici di discuta. Dal 2006 anche in modalità di tornei regionali e nazionali. Tra le sue opere, alcune tradotte in spagnolo e cinese, 50 discorsi ingannevoli, argomenti per difendersi, attaccare, divertirsi, del 2011, sulle belle e ammigerate e paulacce. Come dirlo? Parole giuste e parole belle, la seconda edizione del 2019. Avere ragione? Piccolo manuale di retorica ideologica del 2019. Palestra di botta e risposta? Sei passi nell'argomentazione con Massimo Tombolillo per Mimesis, sul dibattito come giudo discorsivo. Competing, cooperating, deciding, towards a model of deliberative debate, con Bruno Mastroianni, Firenze University Presti 2021, questo sul dibattito come collaudo e bilancia della ragione. Botta e risposta? L'arte della replica, come dirsele, non darsele, di santa ragione e perché fa bene, alla sua terza edizione, continua a vino Roma 2021. Fa da Discussant il dottor Mauro Manica, psichiatra e psicoanalista, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e dell'IPAE, oltre a vari contributi su interviste scientifiche, ha pubblicato diversi volumi sulla psicoanalisi delle patologie gravi, sulla teoria e la tecnica analitica. Gli ultimi lavori pubblicati sono Coscienza e intuizione, del 2021 con Alpes, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, Dialogo di Dion con la psicoanalisi, del 2021 con Armando, Ascoltare con l'incorcio del 2022 per Alpes, Psicoanalisi 2.0, Ascoltare con gli occhi, Parlare con i colori, Il tormento del mistico, 2022. Ha ricevuto nel 2009 il Tico Award dell'IPAE, è stato redattore della rivista di psicoanalisi, vive e lavora a Genova. Interverranno entrambi, come vedrete da remoto, proponendosi per un dialogo in forma di botta e risposta, o come lo ha definito Mauro Manica nei momenti preliminari di incontro, uno stornellare. Abbiamo un programma di lavoro stasera di un'ora e mezza circa, fino alle 10.45.